E' casa nostra! Questa è casa nostra! E' questa la marea umana che è scesa in piazza per chiedere la chiusura dell'area a caldo della Ferriera. Come vedete soprattutto tantissime famiglie da ogni parte della città di Trieste. E' questa anche le dimissioni del sindaco Cosolini e del governatore Saracchiani per la gestione della vicenda ferriera. Così! 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 a rimetterci siamo noi, o moriamo sosfocati e vogliono di fame i nostri fioi, e le istituzioni liquidano tutto, non badando neanche a rischio timori, timori fondati sulle lapidi con nomi e cognomi di miei concittadini fatti fuori, quella puzza d'evo marzo che va di la superstrada, che mi strappa il fiato in due come il fendente di una spada, tutti se ne lavano le mani, la gestione di Ponzo e Pilato, la coscienza sporca di qualche stronza ingessata, la mia Trieste perde il lusso di essere la più bella, perché qualcuno deve ritirare la sua parcella, grazie te lo diciamo però perché siamo un po' stufi, Taranto e Trieste, uniti nella lotta, la salute non si tocca, allora io dirò, lo ripeto perché non si era capito, dirò Serracchiani e voi risponderete dimissioni, per favore puoi riprendermi mentre dico questa cosa cara, Serracchiani dimissioni, Serracchiani, 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 Sì, 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 Sì Grazie a tutti.